Ciao, buongiorno, una comunicazione importante e urgente per chi segue la playlist Montebianco Focus. Notizia proprio di oggi, vuoi scalare il Montebianco? Prima paga 15.000 euro per i soccorsi e il funerale. Questo è quello che sostiene il sindaco di una cittadina francese, che dopo che dei pseudo alpinisti sono stati trovati in condizioni non adeguate, che cercavano di salire in condizioni con scarpe da ginnastica, pantaloncini, in vetta al Montebianco in questo periodo. Come avevo già riportato nella community, alcuni rifugi sono chiusi per mancanza d'acqua, le vie sono chiuse e le guide alpine hanno deciso di non fare escursioni sul Montebianco. Premesso che secondo me l'alpinismo è uno sport libero che non può essere controllato né politicizzato, io rinuncio a tutti i progetti e a tutti i video che avevo in mente per quanto riguarda il Montebianco. A data a destinarsi probabilmente andremo all'inizio della stagione del prossimo anno a questo punto. Io parlo per me, non voglio insegnare niente a nessuno, però quando la montagna dice no, è meglio rinunciare. Anche perché ho imparato che rinunciando poi ti aspettano altre bellissime e nuove esperienze. Te lo dico proprio di cuore, te che ti sei iscritto a questo canale e che segui la playlist Montebianco Focus, le guide, hanno detto che ora non ci sono i requisiti di sicurezza, cioè è veramente pericoloso, è una roulette russa. Questo lo stanno dicendo delle guide alpine, persone che hanno deciso di non lavorare, quindi hanno anche una perdita economica. La stessa perdita la stanno avendo i rifugi. Probabilmente se continua questa condizione climatica anche il prossimo anno, probabilmente si dovrà pensare ad anticipare la stagione, diciamo, dell'alpinismo su ghiacciaio, credo, probabilmente. Bene, col valore della rinuncia ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei prossimi video e lasciare un bel commento, perché anche in questo caso il tuo commento è veramente importante. Bisogna aprire un confronto. Questo canale è questo. Ciao.